Seguite lui, dimmi come stiamo, cosa, dimmi come ti chiedi in youtube, darkgamer, è nato così, e seguite altri miei, a parte questo perché non so che stiamo, sto guardando un video, io sto facendo un video e tutta l'impatto, vabbè. Spoiler, tutti sanno che sei solo online e ti schiacci, quel tempo sei un capolavoro d'arte moderna, ma senza tutto sei un capolavoro d'arte di merda. Sei così alto che lunghi quelle gambe, del contrario di quello che hai nelle mutande, sono bravi in matematica, ti dico, la tua altezza è proporzionale a quanto sei ricogliorito. Ho capito perché sei così idiota, la tua testa è come la zucca di Halloween, vuota la tua faccia sotto il trucco, l'ho vista, ora ho capito perché deve curarti le borroide dal dentista. Sì, l'ho fatto io, questo è il mio amico, però che mi ha messo questa foto, è qua il mio primo video che ho fatto. Poi ho fatto Nord-Sud, VS-Sud, cosa dire? Era un video improvvisato, quindi ciao!